Vietato distrarsi in casa Rimini, la Valle d'Aosta si è confermata avversario malleabile. I Biancorossi in stagione le hanno rifilato 3-2-0, l'ultimo della serie permetterà ai ragazzi di D'Angelo di affrontare con più serenità la partita di ritorno. Malcerrutti di San Giusto Canavese non sono mancati un paio di momenti da brivido, scacciati dai puntuali interventi del Super Scotti, insuperabile baluardo della Porta Biancorossa. Massima concentrazione dunque per raggiungere il primo traguardo di questo infuocato giugno. La gara di andata ha messo in evidenza anche un Riccardo Taddei ispirato, le sue pennellate da giocatore di categorie superiori sono un'altra medicina per una squadra che in stagione ha inevitabilmente pagato Dazio alle incertezze societarie. La prestazione volitiva della Ciaccato Morga, un Unescu sempre più trascinatore e un Marco Brighi tonico in mediana, il Rimini ha iniziato i play-out con la marcia giusta. Sulla carta non c'è gara tra i Biancorossi e i rivali, ma il campo in stagione ha spesso dato un risponso diverso. Intanto, nell'altro girone, l'Interregio mostra sicurezza e convinzione di ribaltare il risultato dell'andata. Il granillo rischia di essere davvero un inferno, sia per i Toscani che eventualmente per il Rimini. Domenica, quindi, occhi sul rettangolo verde del Romeo Neri, ma anche un orecchio alla radiolina. I Toscani di Orrico restano infatti l'avversario preferibile per la doppia finale del 9 e 16 giugno. I Toscani di Orrico restano infatti l'avversario preferibile per la doppia finale del mondo.